Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. E tu il cappello, vabbè, quindi lei ti scorrerà la Pasquetti in panchina. Esatto. Ma con le due donne, come dice il signore, oppure ragazzi. Una panchina una e una panchina l'altra. E lei in mezzo, lunedì. Tempo permettendo, imbarca con qualche amico. Lei sì che si può permettere tutto, sai? No, io non me lo posso permettere. Uno ghiotto. Io non me lo posso permettere, 36 metri. Auguri, allora, auguri. Non ho ancora deciso. Però insomma andrà al mare, dove in montagna. Sì, penso di sì. Ah, al mare? Sì, verso il mare. Ah, bene, complimenti, allora. Buon viaggio. Scorreremo questa Pasqua e questa Pasquetta. Alla luce di Dio. Qui parteciperemo alle cose, alle funzioni pasquale. E poi staremo in casa, non andiamo a nessuna parte. Pure il lunedì, ovviamente. La stessa cosa. Preghiamo per quelli che si allontanano. Ecco, bisogna pregare per tutto. Ma lei a pizza piena, a pizza all'erba, comunque, fa un assaggino, insomma. Ma no, delle tradizioni. È un gioitembo, perché io sono molto impegnata. E quindi che ci mangiamo? Ci mangiamo come al solito. Non è che noi facciamo queste grandabuffate, così, nelle feste. Non le facciamo queste grandabuffate. Vi auguro buona Pasqua, Santa Pasqua a tutte quante. Voi dove andrete di bello il lunedì, visto che pare che tutti si muovono, vanno lì, di solotti. A casa, a casa, a casa. A casa. A posto favoloso. A casa. Eh? Lunedì piove. Ai moggi. Mogi, c'è la previsione, ho un po' il telefonino. E quindi a casa? A casa. Si sta comodi, belli, grazie di Dio. E non litichi con nessuno. E un casatino? E ci mangiamo sempre. E ci mangiamo sempre. A pizza con l'erba, a pizza che... Tutte cose. Però a casa, perché piove, la responsabilità è sua. No, per non trovare casino. Ah, ecco. Si muovono tutti. Ok, auguri a tutti. Auguri. Si avvicina la Pasquetta, lei dove andrà di bello, lunedì? Ma io gradirei stare in pace con la mia famiglia, senza alcun tipo di vacuità. Ecco. Quindi a casa? A casa, assolutamente. Però sempre caso passata con un casatino a pizza che... Quello fa parte del nostro patrimonio culturale, quindi va onorato in qualche modo. E se sta a casa, a parte l'arredamento. Assolutamente. Posso chiedere alla sua splendida metà, invece... Ci serve il traduttore, perché lei... Sarà a casa pure lei, con lui. So, you stay at home with me, right? Sì, se lei e lei. State bene, sì? Assolutamente. Quando è che ci sposiamo, così faccio un po' il... Wedding time, eh? È scomplicated, eh? È molto complicato. Auguri, auguri. Grazie. Il tempo dice che non è tanto buono. Piove. Eh, è piove, quindi meglio evitare. Poi in mezzo al traffico, onestamente, a me non piace. E quindi vi organizzate a casa? Sì, sì. Diversamente. Operazione soppressata sicura. Sicuro. È casatiello. È casatiello. Grazie, anche a voi. Sì, anche a voi. Grazie a tutti.